Sono Riccardo e frequento il corso ETS del polo formativo Legno Arredo per tecnico commerciale, per il marketing e l'internazionalizzazione del prodotto Legno Arredo Made in Italy. Ho scelto questo tipo di corso per un mio interesse di partenza del design, del marketing e della comunicazione e frequentandolo, ho finito il primo anno, questo interesse e conoscenza in queste materie o comunque interessi miei personali è diventata sempre più importante e mi ha permesso di conoscere cose sempre nuove. Inoltre ho scelto questo corso perché rispetto all'università offre una componente pratica essenziale per imparare a stare nel mondo del lavoro. Se dovessi consigliare questo corso a un ragazzo che ha finito il liceo o le scuole superiori il mio consiglio sarebbe quello di innanzitutto informarsi se uno non ha le idee ben chiare o comunque se è interessato anche se ha già un'idea di quello che vorrà fare appunto di informarsi perché è una validissima alternativa all'università e poi se uno è interessato già al settore è la scelta perfetta.